In attesa dell'ultimo match per chiudere la diciassettesima giornata del Giro NRC del campionato in Lega Pro, ieri si sono giocate nove gare. Occhi puntati sulla gara tra Palermo e Monopoli, con la vittoria dalla formazione siciliana per 2-1. Una gara che porta il Palermo al secondo posto in solitare in classifica, a quota 32 punti. Il primo tempo vede il rosanero passare in vantaggio con i gol di Valente al ventiquattresimo. Dopo appena due minuti, Grandolfo firma il gol del pari. Il secondo tempo vede le due squadre giocare in maniera equilibrata, ma l'ottantasettesimo, Brunori, firma il gol del definitivo 2-1, che conferma il sorparso in classifica dei siciliani. Seconda vittoria di fila anche per il Picerno, che supera in trasferta, la Fidelissandria per 3-2. La squadra lucana passa in vantaggio al minuto 42 con D'Angelo. La Fidelissandria non molla, in tre minuti firma il sorpasso prima con Venturini e poi con Casoli. Il Picerno non ci sta nella ripresa, pressa gli avversari fino a trovare il gol del pari con Esposito al minuto 77, compita resi al novantacinquesimo. Una vittoria importantissima per il club lucano, che da quando ha cambiato l'allenatore ha ottenuto 7 punti in tre gari. Sfida senza emozioni tra Potenza e Turris e Taranto Messina, con entrambe le sfide terminate sul risultato di 0-0. Vittoria di misura per la Virtus Francavilla sul Monterosi. La squadra pugliese vince grazie al gol di Perez al minuto 52 della ripresa. Vittoria anche della Dina sul Catania per 1-0 con la formazione Etnea, che non riesce a reagire dopo i due punti di penalizzazione inflitti dal TFN. Torna al successo il Catanzara all'esordio di Vivarini sulla panchina. Il Foggia di Zeeman non riesce a reagire alle incursioni di avversaria. Vasquez firma il gol del vantaggio al minuto 45. Nella ripresa decide il match l'autogol di Sciacca. Vittoria anche della Vibonese sul campo basso per due reti a zero. Accade tutto nei minuti finali, con i gol di Ciotti al minuto 88 e di Gom al novantaquattresimo.